L'introduzione alla stampa di questa pubblicazione del concerto, che si era sempre fermamente sempre stato contrario appunto a questa richiesta, perché tutti quanti chiedevano che venisse fatta questa trascrizione. E lui molto poeticamente dice, una sera via Colonia, questa musica è arrivata e si dovrebbe andare nello stesso modo, insomma ecco, perché quello che lui poi ha provato, grazie a questa incredibile pazienza di questi due musicisti giapponesi, uno si chiamasse Yukiko, l'altro Yamashita, hanno trascritto questa opera, lui l'ha provata, in realtà abbiamo una trascrizione reale, ma al tempo stesso penso un apocrico si potrebbe dire, perché la musica è completamente priva di qualsiasi indicazione di dinamica, forti, piani espressivi e così via, tutto quanto è non detto, non c'è neanche una legatura, non c'è neanche nessun segno, quindi è molto particolare. E lo stesso Giallo fa riferimento di fare riferimento appunto alla sua registrazione, quindi come è un punto importante. che posso dire? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.